è arrivato carissimi oggi giro molto relax e ne approfittiamo per fare un video con un principiante della bici da corsa approfittiamo di una salitella in zona per approfondire gli errori che fanno spesso i principianti e che io in prima persona ho fatto sicuramente un errore che ho fatto è stato quello di far uscire troppo lunghe con poco allenamento quindi buttarmi subito a fare tre ore e più anche se non sembra oggi con l'uscita di strava che faccio però ho fatto questi errori collegato a questo c'è andare troppo lontano andare troppo lontano senza saper riparare la camera d'aria velocemente rischia di farti tornare a casa col buio mi è capitato una volta che ho fatto un'uscita molto lunga di più di 100 chilometri che per un principiante abbastanza mi sono arrivato a forare e questa foratura ci sono stato mezz'ora ripararla ero totalmente impedito tempi molto lontani rispetto agli attuali in cui cambio una camera d'aria in meno di un minuto e sono tornata a casa che era buio preoccupazione a casa dei familiari ma alla fine è successo niente però evitiamo sta cosa un altro errore è stato fare salite troppo lunghe e lontane come per prima se non si è preparati non solo meccanicamente ma anche fisicamente è un rischio rischi di chiedere troppo al tuo fisico quindi al posto di fare salite lunghe magari all'inizio è bene farne tante brevi ripetute all'interno della stessa uscita un mio amico che ha iniziato da poco faceva un errore secondo me abbastanza ingenuo si metteva a fare salite dopo un'ora di riscaldamento in realtà non serve un riscaldamento basta molto meno e basta iniziare la salita con un rapporto molto tranquillo un altro errore non saper riparare la camera d'aria non potete uscire senza aver riparare la bici e poi non alimentarsi bene se fate uscire lunghe dovete mangiare speciali inizio non siete super efficienti quindi rischiate di fare la fame di avere crisi di fame e infine come ultima raccomandazione abbiamo parlato delle salite per riparare uscire in gruppo uscire un gruppo troppo presto può essere un rischio perché spesso i gruppi di ciclisti che trovate sono di gente allenata gente che fa gare gente che ha un passo e una preparazione lunga anni e quindi specie nelle uscite di sab domenica hanno spesso dei ritmi gara e rischia di farmi male non fisicamente nel senso che cadete almeno non subito ma bruciarvi in un paio di salite e poi trascinarvi fino a casa invece il rischio fisico qual è è che arrivate stanchissimi in gruppo vi distraete e cadete perché non percepite quello davanti che frena siete annebbiati e quindi il rischio è molto più probabile rispetto ad altri incidenti perché siete lì se all'inizio vi sentite casati vi sembra di essere al tour de france vedete gente che con voi in gruppo che vince le gare potete essere come loro ma non è esattamente così immediato e vi ripeto che questi sono tutti errori che ho fatto in prima persona non sono arrivato a cadere in gruppo ma ci arrivano molto vicino sono dove una discesa però eravamo in meno persona roberto tutti errori fatti sicuramente uscite qualche uscita con gente molto più forte con un altro ritmo e chi ti ha portato in questa uscita tu lo conosci qualcuno accanto a me in questo momento c'è un'altra persona non sono io poi alimentazione non tanto tutti nella mountain bike quindi diciamo che gli sforzi già prolungati li conoscevi perché non c'è molto da da gestire lì se perché una rampa devi farla e qualche errore che io non ho nominato che ti ricordi aver fatto ce l'ha in me? ho una foratura invece da corsa con una valvola troppo corta che il C2 non mi ha riusciva a gonfiare quindi avevi un'attrezzatura che non era adeguata o meglio c'è l'attrezzatura adeguata ma la camera no ok esatto c'è perché lui ha in questo caso ha dei medi profili in carbonio e se sbaglio a comprare la camera d'aria e non riesci e poi rimani a piedi perché ti serve la prolunga la prolunga non ce l'aveva e lui ho detto ti serve la prolunga però tutto sommato diciamo che sono sempre questi gli errori classici strafare voler andare troppo lontano da soli fate passi uno per volta lo so che è bello lo so che è una scoperta continua la bicicletta da corsa specie quando si prende già da adulti no quindi si è come se si ritornasse bambini però dovete mitigare un po l'entusiasmo con la razionalità al capire che ci sono dei rischi importanti ed è sgradevole cadere rompersi una spalla è brutto andare in crisi di fame è brutto andare in crisi di freddo ora siamo in estate però in inverno una volta che ho preso nella pioggia molto forte faceva freddo c'era vento e io mi ero detto vabbè tanto spingo arrivo a casa che sono distante meno di 10 chilometri ce la faccio in realtà ho avuto una crisi di freddo allucinante mi sono dovuto buttare in un bar avevo 5 euro ho comprato tre rustici mi sono mangiati lì sul posto immediatamente per riscaldarmi un'altra volta mi sono andato in crisi il giorno prima non era una crisi proprio da principiante però vi spiego lo strafare dovevo fare un allenamento in salita il giorno prima ho fatto più di mille metri con qualche ripetuta il giorno dopo mi sono messo in gruppo per andare sia lontano che in salita a provare delle sedie una gran fondo ma con un ritmo abbastanza alto doppie file cambi in coppia insomma non era una passeggiata a metà della prima salita già mi lamentavo nella seconda salita mi tenavano le gambe alla fontana alla terza salita non andavo avanti e siamo fatti il ritorno che mi dobbiamo spingere e sicuramente se qualcuno che da questo video si ricorderà con la giornata una della giornata più difficili in bici che è successa nei primi due anni di pratica e faccio atletica facevo i 100 e 200 salti in alto 400 avevo 11 s ne 100 23 8 nel 200 1 70 salti in alto tutto entro 17 anni 56 400 e pensavo vai con un approccio più da 3 che da bici dove però non si inventa nulla nemmeno qui pensavo di farcelo invece anche io ho fatto questi errori quindi se potete evitarli vi risparmia tanta sofferenza allora continuiamo vediamo sta salitella e torniamo a casa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti